Inizialmente vado a cercare un'intonazione più alta per poi scendere in maniera tale che la pelle ha modo di tirarsi bene sui cerchi e sui fusti. Vi mostro un paio di fill in cui inserisco questo agglomerato di piatti. Ciao ragazzi benvenuti su Casting Drums, oggi come potete vedere sono in postazione e scrivania, questo è il mio video del Black Friday e oggi vi voglio parlare di un aspetto veramente molto importante per noi batteristi. Vi faccio una domanda, quante volte vi è capitato di dire cavoli vorrei migliorare col mio strumento facendolo in modo efficace, veloce, avere la persona giusta al mio fianco e magari anche divertendomi. Vi è capitato un bel po' di volte anche a me e so come ci si sente quindi oggi ho un bel po' di cose da dirvi che vi dirò dopo la sì. Noi batteristi quando pensiamo allo studio pensiamo che sia noioso di solito, la prima cosa che pensiamo è quella, ma ci sono alcune cose che possono cambiare questa visione della cosa. Numero uno trovare l'insegnante, la guida giusta che ci permetta di avere quella voglia di studiare e di migliorare. Musicisti in Italia ce ne sono tantissimi e soprattutto bravissimi e infatti noi due anni fa abbiamo deciso di raggruppare tutti questi musicisti insieme e permettergli di spiegare a ognuno la cosa che sanno fare meglio. Quindi chi si occupa di rock, chi si occupa di coordinazione, chi di tecnica, chi di metal, chi di doppio pedale eccetera eccetera. Tutti questi musicisti che all'inizio quando siamo partiti erano più o meno 10 e adesso sono più di 35 ci sono su Vibe. Punto numero due, noi batteristi facciamo rumore, quindi per studiare dobbiamo andare o nei bunker o nelle cantine, comunque in dei posti un po' sperduti di solito dove molto spesso non c'è connessione internet. Quindi la cosa migliore sarebbe avere un'app dove posso scaricare tutti i contenuti prima e poi guardarli anche offline, magari poter scaricare anche tutte le trascrizioni di tutto quello che viene suonato all'interno delle lezioni, tutte le basi per poterci provare sopra eccetera. Quest'app esiste ed è l'app di Vibe. In questo momento in offerta all'interno di Vibe avete tutti i corsi inclusi che vi interessano, non stiamo parlando dei singoli corsi, tutti i corsi inclusi e in costante aggiornamento perché sì, ogni settimana rilasciamo nuovi contenuti. Vibe ha tantissime figate, ve ne aggerete un bel po' ma potrei stare qui delle ore a spiegarvi le figate di Vibe. Quindi oggi vi voglio concentrare principalmente su tre punti. Numero uno, i percorsi, ce li avete chiesti tantissimo, sono arrivati su Vibe, i percorsi che vi permettono di arrivare all'obiettivo che desiderate. Numero due, che cos'è Vibe? Quindi farvi fare un giro sulla piattaforma e farvi scoprire un po' di cose, anche di altri strumenti, perché poi vi dico perché è figo anche quello. E numero tre, i tre corsi che noi chiamiamo serie didattiche. Voglio farvi vedere quelli più visti, quelli un po' più interessanti. Ma prima cosa, partiamo dai percorsi. C'è qualcosa di meglio di un percorso ben studiato, ben strutturato, che vi permette di arrivare a un obiettivo e raggiungere soprattutto quell'obiettivo? Direi proprio di no. Ad esempio, voi dite, ok, io voglio adesso cominciare a studiare bene la batteria rock. Voglio capire bene come funziona il genere rock. Perfetto, c'è un percorso apposta per quello. Vi faccio vedere. Entrando in questa pagina, che ovviamente è solo un esempio di quello che poi sarà tutta la questione percorsi, andando giù abbiamo i percorsi di chitarra e poi i primi due percorsi di batteria. Batteria da zero per chi non ha mai cominciato proprio a suonare la batteria e batteria rock. Come vi ho detto, facciamo un esempio. A noi interessa batteria rock. Quindi clicchiamo sopra e nel momento in cui andiamo sulla pagina, noi avremo una breve descrizione che ci spiega un po' che cos'è il percorso batteria rock. I requisiti. Sulla destra abbiamo tutti e cinque, in questo caso gli insegnanti, che ci insegnano qualcosa del rock all'interno di questo percorso e qua abbiamo tutti quanti i contenuti che sono a difficoltà crescente. Abbiamo batteria rock 01 di Daniel Fasano e tecnica pura 01 di Tancredi Locinio e andando avanti andiamo al livello dopo con batteria rock 02 coordinazione. Qui ci sono i contenuti obbligatori, cioè quelli che ci permettono di migliorare sicuramente e in maniera semplice e veloce. Andando avanti ad esempio nel livello 3 ci sono sempre due contenuti obbligatori e un contenuto opzionale che in questo caso, in questo livello si parla di punk rock, è lo stile di Travis Barker. Allora, qui si tratta di un contenuto opzionale, non è obbligatorio, quindi potete guardarlo o non guardarlo, ma io vi consiglio di guardarlo perché comunque ad esempio in questo caso lo stile di Travis Barker, che è il batterista punk rock attualmente più famoso, qui avete la possibilità di mettervi anche sul divano e dire ok, me lo guardo un attimo, mi faccio un po' di cultura musicale, scopro gli aneddoti, la storia, tutte le cose di Travis Barker e comunque imparo qualcosa di nuovo. Poi, se non la volete fare, non c'è problema, potete comunque andare avanti al livello dopo. A tutto il discorso percorsi si aggiunge però la home di Vibli. All'interno della home di Vibli, come potete vedere, avete per quanto riguarda gli strumenti, blu batteria, rosso chitarra, verde registrazione, quindi tecniche di registrazione, ukulele e basso che è rosa, che è questo qua e quindi avete la possibilità anche di spulciare un pochettino gli altri strumenti, volendo. Ad esempio voi volete suonare basso, magari lo suonate già un pochettino, sapete le basi del basso, allora qui c'è Mattia che ve li spiega. Oppure volete cominciare a basso da zero, allora andate qua e trovate tutti i contenuti e anche tutte le risorse scaricabili. Oppure volete imparare a registrare la batteria? Perfetto, avete o le serie, noi le chiamiamo serie didattiche, ma comunque i corsi che vi permettono di imparare a registrare e mixare la batteria, oppure avete anche ad esempio home recording da zero, così almeno partite con le registrazioni proprio da zero, 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 zero. Per trovare tutto quello che c'è all'interno di Vibli potete utilizzare i filtri, filtri per categoria, filtri per autore, filtri per strumento, difficoltà, se volete cercare un qualcosa di specifico che vi interessa e che volete imparare, oppure nel momento in cui volete imparare qualcosa di più strutturato, appunto come vi dicevo prima, ci sono i percorsi. Quelli che vi ho fatto vedere di percorsi, adesso come avete visto ce ne sono due per batteria, percorso a zero e percorso di batteria rock, ne arriveranno nelle prossime settimane sempre di più in base alle vostre esigenze, in base a quello che volete imparare, se volete imparare metal, se volete imparare coordinazione, indipendenza, ognuna di queste cose avrà un percorso dedicato. Seconda sezione, i veri contenuti di Vibli, quindi vi voglio parlare degli insegnanti e dei corsi che noi chiamiamo appunto serie didattiche. Partiamo dagli insegnanti, come potete vedere ce ne sono tantissimi, perché gli insegnanti sono più di 35 in questo momento e in costante aggiornamento, e all'interno degli insegnanti, sempre solite colorazioni per quanto riguarda gli strumenti, ma noi abbiamo insegnanti come ad esempio Phil Mer, e cliccando sull'insegnante noi possiamo andare a vedere tutti i corsi che ha fatto Phil Mer, principalmente sul groove, le pronunce, il timing dedicato al groove, la dinamica, dei corsi dedicati anche agli stili dei batteristi, come ad esempio Steve Ferrone, che lui tra l'altro ha conosciuto benissimo quando suonavo con i Pooh, o Steve Jordan, andando ad un altro insegnante, ad esempio Federico Paolovic, che lui invece ci parla più di tutto l'aspetto metal, quindi metal doppio pedale, ci dai workout di doppio pedale per groove e feel, poi ci parla anche di tutta la questione che a lui piace molto del tempo, quindi time stretch, modificare il tempo, allargare, stringere, ci parla dei tempi dispari, oppure Daniel Fasano, Daniel Fasano ha fatto un sacco di corsi, uno dedicato completamente al rock, uno dedicato al paradido, uno a John Bonham, stick in linear, half time shuffle, groove, come funziona, tutto quanto, e tra l'altro io voglio anche far notare giusto così che qui abbiamo la valutazione di Vibli, pensavo di riuscire a selezionarvelo, ma non riesco a selezionarvelo, abbiamo la valutazione Traspilot di Vibli eccezionale con 84 recensioni verificate, questa è una cosa importantissima perché le recensioni non sono a caso, ma Traspilot va a verificare proprio gli utenti che hanno recensito Vibli. Tornando un attimino a tutta quella che è la home, come vi dicevo qui avete tutto, nel senso che avete tutti i corsi da non perdere, tra l'altro ragazzi questa è groove di Salmo è fighissima, fatta da Jokopo Volpe, il batterista di Salmo, avete i raccomandati per voi, avete i vari strumenti, il corpo insegnanti, tutto quello che potete continuare a guardare, ma la cosa secondo me fighissima come vi dicevo prima sono i filtri, filtri che posso andare a decidere ad esempio per categoria, quindi io voglio imparare ritmica e groove, ma solo di batteria, quindi vado a mettermi solo i corsi per batteria, ritmica e groove, oppure voglio andare a imparare, non lo so, il timing della batteria, qui avete tutti i corsi di timing fatti da Phil Mer, fatti da Andy Eno, da Max Furian, Federico Paolovic eccetera eccetera. Come magari avete già visto però torniamo alla home, nelle grafiche di ogni corso, di ogni serie didattica ci sono dei numerini, ad esempio questa qui di Fabio Vitello ha tre numerini, uno, due, tre, questo significa che questa serie didattica è composta da tre stagioni, che cosa vuol dire? Adesso vi spiego, allora entriamo dentro e vediamo che abbiamo prima stagione, seconda stagione, terza stagione che non è ancora uscita completamente, usciranno delle altre puntate nelle prossime settimane. Come avete visto è diviso in puntate, puntate da 10, 12, 15 minuti che sono molto fruibili, nel senso alla fine una puntata da 12 minuti in una giornata, un contenuto da 12 minuti lo potete vedere tranquillamente e dopo aver fatto un contenuto ne fate un altro, un altro, un altro, fino a completare una stagione completa. Pensate a un qualsiasi altro servizio in streaming, cioè voi guardate una puntata di una serie televisiva, poi ne guardate un'altra, 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 fino a che avete finito la stagione 1 e avete quella cosa di dire cacchio voglio andare avanti con la puntata, voglio vedere quella dopo, quella dopo, quella dopo, voglio vedere la stagione dopo, eccetera. C'è un po' quella cosa di dire cacchio voglio vederla e qui è la stessa cosa, cacchio voglio imparare sempre di più, voglio andare sempre più avanti con quello che sto guardando, quello che sto imparando. Quindi questa è la divisione, contenuto da 12 minuti, puntata, 6, 7, 8 puntate formano una stagione e poi 2, 3, 4 stagioni formano una serie completa. La serie completa è un po' diciamo l'obiettivo che vi siete prefissati, al macro obiettivo che vi siete prefissati. Andiamo alla terza sezione in cui voglio farvi vedere un po' le serie più viste su Vibe, quelle un po' più interessanti, quelle anche un po' particolari che però vi piacciono molto quindi andiamo sul computer e voglio partire dalle serie in tendenza facendovi vedere questa qua di Federico Paolović che è Double Pedal Workout, mi metto le cuffiotte così sento anch'io. Double Pedal Workout che è una serie composta da due stagioni in cui Paolović ci spiega in pratica i suoi workout, lui è un po' matto su ste robe, si fa tutti i workout specifici per alcune cose e ce li svela in queste due stagioni, in questa serie, dove ci parla di workout per quanto riguarda il groove e workout per quanto riguarda i feel. Ad esempio andiamo a vedere qua, eccoli qua, lui è pazzesco. Ho preso subito il punto in cui suona, raga Paolović è perfetto quando suona, è perfetto, è sempre tutto giusto. Che figata, grande fede. E poi chiaramente, esattamente come con i sedicesimi, negli esercizi della scorsa puntata ci troveremo a suonare una base di sestine, sempre, ok? Quindi una cosa del genere. Mamma mia! Questo per i metallari è perfetto. Quindi ci fa vedere appunto i groove, i workout per quanto riguarda i groove e anche i workout per quanto riguarda i feel, ad esempio questa qua, che è la dinamica col doppio pedale. Una cosa del genere. Una cosa del genere, poi quando suona ti spettina. Figata tra l'altro questa roba qua, che nei feel è utilizzabilissima. E più che altro sembra complicatissima, ma in realtà è fattibile. Poi vi spiega il perché è fattibile, ma all'inizio io l'ho sentito e ho detto ok sta roba, poi dopo la spiegazione eccetera ho detto ah ok, era questa cosa qua. Si può fare quindi, si può fare anche da comuni mortali. Quindi un'altra serie molto vista è quella su Steve Gadd. Posso andare a cercarla direttamente dalla sezione insegnanti, vado su Max Furian. Qui vedo tutti i corsi che ha fatto Max Furian, vado su lo stile di Steve Gadd. E vado a vedermi ad esempio il Paradiddle come stile di vita. Cioè andare a partire dal Paradiddle e incominciare a spostare, spostare, spostare e creare per fare delle figate che adesso vi faccio sentire. Ecco qua. Direste mai che questo è un Paradiddle? Qui si sente Steve Gadd, si sente tantissimo Steve Gadd. Sembra impossibile ma è un Paradiddle questa cosa. Però appunto Furian ci spiega come fare. Tutti i Paradiddle. Sembra impossibile ma è così. È il fatto di studiare e poi applicare. Quindi studiamo il Paradiddle, destra, sinistra, destra, destra, sinistra, ma poi andiamolo applicare e escono delle robe pazzesche come ci fa sentire Furian in questa serie qua dedicata a Steve Gadd. Altre serie di cui voglio parlare sono quelle di Film Air. Film Air, vabbè, io lo conosco benissimo ed è un batterista veramente a 360 gradi perché sa suonare praticamente tutto. Come vi ho fatto vedere prima ha fatto tantissime serie. Una veramente molto molto interessante è quella che riguarda l'accordatura della batteria. Raga, il suono per i batteristi è importantissimo. Avere un suono buono di batteria cambia tutto. Qui spiega come accorda la cassa. Molto sulla pelle invece quando suono magari delle ballad o un pochettino più piano mi piace invece poter apprezzare la cassa in tutta la sua rotondità. Qui ha fatto una cassa con un bel po' di nota. Come vedete ha anche i battenti particolari che lui cambia a seconda di quello che deve suonare. E qui spiega tutto. Quindi dalla gran cassa, ad un lante, ai fusti. Quindi spiega nel dettaglio come fare ad accordare ogni tom della batteria o timpano della batteria. E poi anche la questione piatti. Scegliere i piatti in base a quello che vogliamo suonare. Per esempio in tutti i contesti musicali. Anche lui come suona. O qualsiasi cosa che gli fa suonare a Phil Merlitz suona sempre in modo divino. Infatti è uno dei batteristi più richiesti che abbiamo in Italia. E uno dei batteristi più forti che abbiamo in Italia. Questi erano solo alcuni esempi di serie che ci sono all'interno di Vibli. Ma ragazzi in totale le serie di Vibli sono più di 100. E sono tutte incluse in un unico abbonamento. Quindi voi entrate e guardate quelle che volete, quelle che vi interessano. Oppure come vi ho detto all'inizio di questo video, se volete una cosa più strutturata guardate i percorsi. Nell'offerta per il Black Friday potete scegliere il vostro piano di abbonamento. Esiste mensile, trimestrale, annuale. Per il Black Friday sono in sconto il piano trimestrale e annuale. Piano trimestrale tra l'altro che è un po' in esclusiva diciamo per questo Black Friday. Tutte queste offerte scadono il lunedì del Cyber Monday. Cioè lunedì 28 novembre. Per qualsiasi informazione, per andare a vedere tutto quanto, come vi ho detto vi lascio il link qui sotto in descrizione. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video e più che altro di Vibli, delle novità eccetera eccetera. E basta. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie.